Ciao ragazzi, ti vi rubo giusto qualche minutino e non fate caso alle braccia, beh. Sapete che son tornato dalle vacanze e mi sono messo subito a registrare la serie, quindi non ho avuto modo di prepararmi il contenuto e non ho video già pronti. Ammetto che adesso mi sto trovando un po' in affanno perché registro, monto carico, registro, monto carico. Ho la sensazione che sto un po' perdendo dal punto di vista del contenuto. Vorrei darvi un po' più di momenti didattici, più approfondimenti, perché come sapete a questa serie ci tengo particolarmente. Perciò ho pensato che la soluzione migliore sia quella di fermarsi, prendermi il tempo per lavorare bene ai video e al contenuto e ripartire. Perciò, non so quando, nei prossimi giorni, che metterò solamente una puntata al giorno, così avrò il tempo di lavorare bene sugli altri video e poi ripartiamo. Quindi tranquilli, almeno una puntata ci sarà sempre tutti i giorni. Se non esce subito, sicuramente alle 19.15 avrete la vostra puntata e cercherò di recuperare ed è molto probabile che saranno un pelo più lunghe rispetto al solito. Questo anche per la natura del gioco stesso, avete visto che si parla tanto, ci sono tanti filmati e quindi io per completare una puntata ho bisogno di un po' più tempo. Spero che non sia un problema. Questa era la mia idea da un po' di giorni per darvi il contenuto migliore possibile. Ma adesso vi lascio al video, è un giocone e voi non avete idea di quello che succederà. Bel trucco! Congelare e sciogliere gli spruzzi per la nebbia. Come fai a usare così i tuoi poteri? Mi obbligavano a farlo quando navigavano i crociati, in modo da nascondere i movimenti della flotta dai nemici. Sto bene. No, non è vero. Potrebbe essere l'occasione per tornare indietro. L'unica occasione di sistemare le cose. Io devo farlo. A qualunque costo. D'accordo. Eccolo là. Il cristallo madre del regno di ferro. Soffio di drago. Correnti forti, rocce affilate e il flusso di etere. Ricordiamocelo. Quest'isola è una fortezza naturale. E la sicurezza porta la non curanza, consentendo a una singola barca di passare inosservata. Il santuario è dentro la montagna. Se seguiamo la vecchia strada, dovremmo riuscire a entrare dal retro. Bene. Andiamo. Ho sempre pensato di tornare qui, per poterla reclamare. Hai ragione. L'isola apparteneva a Rosaria, vero? Sì, una volta. Ma è passata in mano ai sangue ferreo da molto tempo. Come me. Per 13 anni la roccia è stata casa mia. Conosco molto bene i suoi segreti. Questa via è stata abbandonata dopo l'uscita di un flusso di etere. Non è sorvegliata. Quindi è una scorciatoia perfetta. Salve a tutti ragazzi e bentornati a Make Shusha. Siamo tornati con Final Fatto di 16. Grazie a tutti per il supporto. Ma siamo nel momento. Clue, siamo arrivati qui sull'isola dei sangue ferreo per reclamare. No, per prendere il cristallo madre che ne... fuoriesce dall'acqua. Ma qui adesso si deve combattere. Il flusso si è diffuso. La situazione non era così grave. E' l'unico modo di superarlo. Sono Akashic. Attenzione ragazzi. Sono potenziati dal flusso dei... dell'edere. Quindi qui sarà sicuramente molto molto più pericoloso del normale. Ma noi abbiamo il potere dei vari Egon. Il potere che abbiamo ereditato dal nostro Seed. e soprattutto abbiamo una volontà ferrea. La volontà di ripartire di ricostruire il nostro futuro partendo dal passato. Perché insomma oggi siamo qui perché insomma adesso tocca a Jill insomma riparare agli errori anche se per carità ragazzi non sono neanche errori voluti come abbiamo sentito. Vessata fisicamente e soprattutto psicologicamente l'hanno portata a fare delle cose terribili orribili tra cui quella anche di combattere per questa regione l'abbiamo vista per la primissima volta nello scontro con Titano no? È stata forzata. Cos'era? Un terremoto? Capita molto spesso non era neanche forte non la dia l'armante. Ok diciamo se la passano benissimo qui eh abbiamo capito che forse questi qui sono un po' i più sfigatelli da un certo punto di vista di di tutta Valistea però non è neanche vero perché come sappiamo insomma erano loro che furbescamente avevano preso il controllo di questo cristallo che per anni e anni si sono combattuti e contesi con Rosalia ecco lo stesso Clive ha detto io pensavo di arrivare qui e reclamare il cristallo perché era oggetto di contesa e invece quello è un Minotauro o Akashic sarà facile eh no io ragazzi mi sforzo di parlare spero che finalmente questa sia una puntata che inizia così orco giubba ho fatto alzare eh tutti in piedi dalla sedia tutti in piedi sul divano insomma combattere e parlare non è proprio la cosa più semplice però ragazzi miei ho finalmente letto un po' ragazzi avete tutti i commenti delle puntate precedenti adesso siamo quasi in pari cioè si divide una massimo due puntate e quindi posso leggere le vostre considerazioni soprattutto riguardo quello che abbiamo visto nelle ultime è fazzesco cioè stiamo vivendo momenti topici e una cosa che ha colpito il mio interesse è la teoria di più di qualcuno legata a quel muso murales che abbiamo visto lì dagli antichi perché anche io ricordate ho fatto le mie teorie ho detto ma potrebbe essere Ifrit ma dentro Porta Fenice e questa è una cosa che mi sembrava un po' un po' strana però è pure vero che è proprio a Porta Fenice insomma la casa dell'Eicon del Fuoco che è nato comunque che abbiamo visto per la finissima volta un altro Eicon del Fuoco quindi chi lo sa ragazzi chi lo sa come funzionano le cose visto che qui siamo pronti a entrare spero che entriamo in un altro un altro di quei cosi magari potrebbe esserci un altro murales oppure una parte che lì per lì non c'era ah non sono riuscito a tirarlo in tempo quindi chi lo sa ragazzi lo scopriamo solo vivendo lo scopriamo però tra poco ecco adesso ho preso il via ho preso il via possiamo essere belli efficaci contro questo qui abbiamo in realtà ben quattro livelli sopra ma quando è successo questo diventato così forte o è lui estremamente scherzo e sto cominciando anche a fatoneggiare un po' il nostro amico qua vedete vedete qui vabbè questo lo vedremo ragazzi è una delle ipotesi che mi è piaciuta di più è chi ha detto guarda Mike ma non potrebbe essere quella quell'entità Efret fuso con Fenice e cavolo potrebbe vabbè a sto punto potrebbe essere qualsiasi cosa sinceramente però ho detto ma sai che non è un'idea così pazza più che altro poi ho ripensato che nel corso dei vari Final Fantasy più volte abbiamo visto dei personaggi alati no? cioè anche per esempio Sephiroth che è quello probabilmente più famoso no? l'angelo con un'ala sola poi vabbè in realtà anche la trasformazione finale di Kefka che è secondo me il cattivo più figo di tutti Final Fantasy alla fine alle alis se non mi sbaglio in generale è una ricorrenza quindi potrebbe essere quello il mostro finale diciamo che disastro aspetta che succede ne sa una più del diavolo buongiorno amico mio e già l'hai già fatta ok ragazzi l'abbiamo già fatta tra questa Akashic adilo si adilo no ecco sei lontano dalle sue giocare con un combattimento così frenetico vuol dire ma ecco fare dei mestieri ma è difficile diciamo che per questo Final Fantasy mi trovo un po' più perché vorrei dire un sacco di robe poi gli amici non mi aiutano qua non mi aiutano per niente tanto sto cominciando ragazzi a utilizzare un po' di più vedete il nostro Torgal perché se no veramente questo è un peccato diciamo che ludicamente se poteva fare qualcosina in più però io veramente spero che chi ha deciso di seguire questa serie estiva perché questa era estiva ragazzi spero che insomma ragazzi mi abbia dato un po' ragione quando vi dicevo ragazzi fidatevi che questo è il giocone fidatevi e invece oh 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 per il momento ancora non c'ha ecco sta per dire ancora non c'ha fatto danno eccolo Mike Joja oh profeta la routine è sempre quella io utilizzo Garuda per buttarlo giù come in questo caso il personaggio quindi vado attacca attacca tipo in questo momento il più possibile anche se mi spongo a rischi mi sto sponendo a grossi rischi in questo momento poi dobbiamo togliergli la seconda parte quindi se rifa la stessa cosa magari utilizzando pure un po' di ramù e poi si fa danno ragazzi poi si fa danno vedi 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 va Garuda ora ce la dovremmo fare mi spongo ai rischi ma sono calcolati eh se amici miei mi aiutassero un attimo oh vai giù ecco mamma mia ragazzi è incredibile e ora vai Gramu fai il tuo e poi così lo so ragazzi che avrei forse dovuto utilizzare meglio Ifrit che lo devo utilizzare da tranquillamente qua mi dovevano mettere i danni elementali ma che sta succede cioè questo è un molboro che me lo affavo sai con Ifrit sai che succedeva raga non me lo facevo allo spieto me lo facevo invece se sto qui che sta ascoltando oh ma tu si matta proprio si tu si matta proprio oh Ifrit vieni a me e facciamola oh mamma mia io lo para così quando faccio ste parade ragazzi non ci avete avuto un sussulto vai Akashic però è stata un po' più victile vorrei ottenere un nuovo potere se fosse possibile signori del gioco yes si sapete che sto pure pensando che indipendentemente se questo è il vostro primo final fantasy quindi dite come faccio a fare un confronto Mike e non puoi però va sicuro che Clive è veramente un personaggio fighissimo fighissimo e sto pensando come rancarlo tra i più forti secondo me esce sembra una fornace siamo dentro il vulcano ti abituerai al caldo anche se non lo ricordavo così caldo bello caldo certo pensando un attimo alla mamma di Clive che aveva fatto tutto quel bordello perché no dobbiamo iniziare a preoccuparci forse direi di sì ma vai tranquilla vai tranquilla vai tranquilla che non succede niente no dicevo voleva preservare il lignaggio perché sei uno scarto sei qualche miseria sono un ricettacolo sono poi in realtà messa così è pure brutta un ricettacolo vuol dire che sei praticamente un involucro perché sei semplicemente un oggetto che serve per far attraversare il potere però intanto cioè non solo ho Ifrit ho Fenice ho Garuda ho addirittura Ramù in questo momento senti mamma ok so io il meglio non hai capito ero io il cavallo su cui puntare no quello scemo di Joshua io volevo io volevo io volevo tu volevi il cazzo che ti se frega tu te ne vai da qua non te vai giù vede hai capito questo cheat di un certo tipo cheat di filmati che ci passavamo con il con il bluetooth anzi con gli infrarossi a scuola mi farà penare quindi vedo cap e cap un po' di taglietti è questa la giornata cioè non è che io voglio tagliare ragazzi che mi porta a tagliare perché o chiacchiero tantissimo però gioco male cioè comunque mi distraggo un tot e vabbè ci potrebbe pure stare oppure vedete mi concentro alla grande mo sto da tutto sto da veramente tutto quindi come vedete è bello più in pantello ma potrebbe non essere così questo l'ho scopato raga fermi fermi totos lot ninos vabbè niente quindi se altrimenti devo un po' non ve la prendete a male ragazzi io lo so che ci fa i pulischi che dicono ma che non tagliare per favore fammi vedere eh ma io ti vorrei far vedere tutto ma cioè questo gioco dura già 40 ore il problema ecco adesso che mi sto fermando magari riesco pure oh 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 vabbè basta allora ragazzi per ricaricarsi la mossa finale di ramuja veramente ti devo dire solo che non è così strano che l'ambiente sia così infuocato no se pensate che un tempo era il cristallo di rosaria ora io non so se c'è una correlazione tra elementi penso che sì considerando un attimo che questo facciamo che è il fuoco no questo è nella terra e c'è titano questo è quello neutrale quindi se lo pigliano tutti questo è oscuro infatti c'è lo dino e poi c'era questo ragazzi che mi sembrava molto luminoso no era quello un po' più cioè mi sembra che descriva benissimo i suoi padroni ci tocca correre ragazzi un piede davanti che ho visto lì laterale parte scusa scipa ma dove va presto prima che si sciolga succederà tra poco dai forza non voglio più rifarlo no no anche perché infatti non credo che sia possibile se ci pensate perché diciamo quel calore scaturisce dal cristallo quindi è in continua evoluzione in continuo emettere calore ma no eccolo ragazzi qual è il cristallo pensavo di aver visto una figura demoniaca e qua credo che si combatterà eh ho questo sentore oh ma che ehi Pafnir bentornato uno dei demoni ma non lasciano mai la lava se non fosse impossibile direi che il vulcano sta per le ruttare moglie rutta addosso io non ti preoccupare perché attaccarci sono creature pacifiche non questa evidentemente la domanda non è perché la domanda è perché no orco giudo o perché non me difendo forse questa potrebbe essere una domanda un po' più interessante per noi a fondo estremo porco giuba allora ragazzi la testa chiaramente è incenso oro incenso e mirra porco tu si è acceso ragazzi noi gli continuiamo a sparare con il fuoco lo so ragazzi l'ho ripetuto 60 volte lo so lo so non vi voglio annoiare però è troppo una contraddizione stupida è una contraddizione troppo stupida chiedo scudo io ok è tornato normale toltimo a casere per fargli del male gli ho tolto tanto gli ho tolto tanto ma non abbastanza signore ce l'ho eh ragazzi ce l'ho acqua infugata bella signor Mike mi sei piaciuto oh si no questa non mi è piaciuta un po' di meno mamma mia signor Mike lei e lei è uno schivatore professionista vieni da qua vieni da qua sarebbe bello se cioè pure una stupidaggine del genere ma potevano fare che magari Jill incantava la magari la la spada ah ragazzi famosi va prima le cose serie ok 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 madre di dio 31 milan non è il nostro record chiaramente però insomma ci facciamo sentire dai però a carico che succede oh wow wow ha impazzito eh eh lo so ragazzi io lo so che potrei fare il controattacco cioè colpirlo nel momento a salvezza cerco di giocarmela safe anche perché poi Garuda c'ha sta mossa che è super importante per sì per buttarlo giù no però non è così efficace guarda che è bella però però Garuda quando c'è il 50% della volontà se lo ulteriormente abbatte così eh che altro lo può fare se non Garuda eh infatti che c'è solo quella di di mossa volosa per per strunare facciamogliela sentire bella 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 la giustolina ci ho messo un pochettino eh ho messo sinceramente troppo ho chiesto la carica adesso eeeh va bene ragazzi la gestiamo la gestiamo la gestiamo no mi ha fatto la finta pezzo di merda pensavo che scendeva pensavo che scendeva no pensavo che scendesse era l'italiano fa ragazzi siamo andati un po' come come Joshua che è sparito però sappiamo che c'è ragazzi sappiamo che c'era quella notte chissà lui che cacchio cioè come ha fatto dopo quella sera come si è instradato ma ragazzi sono tornato ma ho la paura nel cuore perché mentre registravo mi si è spento il computer così debotto senza senso quindi le sequenze che vedrete tra pochissimo sono praticamente registrate con Shareplay non c'è nessun altro modo per me per poterle per potervele mostrare in maniera diversa quindi e niente guardatevele così e torniamo eccoci ragazzi quindi stiamo andando a trovare il capo della chiesa immagino che sia questo il nostro obiettivo a volte ma meno male che ho avuto la prontezza di Shareplay vabbè ora però giustamente tutto quello che avevo detto è andato un po' a donnina di facili costumi perciò vedete e non c'è più neanche il capitolo quello relativo a quella signora che abbiamo visto allora chi è quella donna quella donna a quanto pare era tra quelle che erano state graziate e quindi prese come schiave le portate qui alle isole di ferro poi non so ragazzi alle isole di ferro perché c'ho Game of Thrones nel cervello avendo vista la piccola Jill in molta difficoltà l'aveva presa sotto la sua ala potertice e cresciuta come una figlia la mamma che Jill non ha mai avuto che non ha mai conosciuto perché vi ricordo anche Jill era stata presa dal nostro padre il Gran Duca e l'aveva portata a Rosaria come prigioniera politica diciamo come deterrente a ulteriori conflitti va bene sì e qui invece ci viene descritta la ferocia e il metodo anche un po' primitivo dei selvaggi crociati di ferro e io ho fatto una bella similitudine sul fatto che non può essere un caso che questi qui siano chiamati crociati no? e vengano da insomma una struttura così tanto legata alla religione vabbè insomma ragazzi tutto lavoro inutile perché nessuno sentirà quello che era stato il mio approfondimento vabbè c'è una cosa che devi sapere ho visto il patriarca fare delle cose a tir poco indicibili e ho giurato a me stessa che sarebbe morto per mano mia ti capisco ho battuto i miei demoni ora devi farlo anche tu va benissimo ci sta ragazzi ci sta ed è giusto che lei lo faccia per andare avanti io oh ci stanno aspettando comunque è troppo figo che c'è questa musica con l'organo ci ricorda un po' la chiesa venite siamo quasi al comorai per loro questa sarà l'ultima giornata su questa terra muori muori sangueferro sono venuto a reclamare ciò che io mazza che stecche che tira questo loro sono particolarmente audaci selvaggi e per niente coccolosi dai ok preso buttate giù e adesso la ciccia è pronta apparecchia le chiappe fanatico e la ciccia è pronta vai vieni vieni uh bello mi sei piaciuto adesso venite a guadagnare il perdono ok ragazzi ora per voi io utilizzo tutto quello che è il mio potere però ricordandoci sempre che qua ci sarà un altro nemico al di là che lo vuole abbattere lei vabbè come potete pare però 27000 no ne stanno arrivando altri addiscate tutto quello che si può dire stiamo facendo il nostro stiamo facendo il nostro bravo l'abbiamo pulito dai fatto e non è stata una grossa resistenza a O Mathensano, planet Junongredeith. O Mathensano, planet Junongredeith. Sacrifici al cristallo. O Mathensano, planet Junongredeith. O Mathensano! La dominante di Shiva. Sei venuta a implorare perdono per il tuo fallimento? Per anni ho eseguito i tuoi ordini. Combattuto le tue guerre. Per proteggere i bambini che avevi rapito. Come era successo a me. E in cambio tu cosa hai fatto? Hai avuto il coraggio di incatenarli e poi hai tagliato la loro gola! Demone. Le loro anime erano lordate dall'onta dell'Etere. Le ho purificate dalla corruzione. Una penitenza. Proprio come indicato dalla Sacra Madre. Entity, razza di abominio! Il fatto che un mostro come te... Pettapiede nel sacro Comreich! È un crimine che si può punire con la morte stessa! Hai ragione. Io sono un mostro. E la mia anima ormai è macchiata. Ma non dall'Etere. Dalla malvagità di persone come te. Che mi hanno fatto chiudere il cuore e sprofondare nell'oscurità quando avrei dovuto oppormi! Questa è la mia penitenza. Non sarò più il tuo mostro d'ora in avanti. E non permetterò che tu possa crearne un altro! La bestia forse ha deciso di mostrare i denti al suo padrone? Coraggio, dominante! Inforiati! Fa vedere quello che sei! Un mostro! E invece tu cosa sei, Imrean? Io ero costretta a farlo! Ma tu uccidi per scelta! Ma adesso è finita. Mi sono già piegata a te. Ora è il momento che tu ti pieghi dinnanzi a me! Uccideteli! Oh! Sciva in forma ibrida! Ma che bello, ragazzi! Ma che potenza recitativa! Ok. Ma è sempre un passo avanti, possiamo dirlo, o indietro, non lo so, però sta sempre qua. Non lo vedevamo da un po' e guarda caso! Oh cazzo rola! No, 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 aspetta! Chi l'ha evocato? Eh, per sciva questo è il problema! Eh, non ha un problemone! Ok. È sciva del tutto! Ragazzi, io non vorrei che ultima abbia preso il controllo, eh! Jill! Appena che questo non è il guardiano del cristallo! Eh, potrebbe essere il guardiano del cristallo! Serve Ifrit! Forza! Ricorda cosa hai provato! Perchè? Perchè non ci riesco? Perchè non ci riesco! Ti prego! Soltanto… Sta forza! La forma ibrida La fiamma liquida Si si ragazzi questo deve essere per forza Il guardiano del Insomma del cristallo Ah no ero semplicemente Trasformato nella forma ibrida Cioè no era la trascendenza Scusate non ero una forma ibrida Che forse si possiamo intendere quella come Nostra forma ibrida però Non riesca a distanza di 5 anni A trasformarsi Siamo ancora in una fase di Grande difficoltà da quel punto di vista Quando bene o male Vedete Jill padroneggia tranquillamente Shiva C'era pure Sid che andava tranquillo Tutti quelli che abbiamo incontrato Riescono a padroneggiare Addirittura Addirittura Joshua adesso padroneggia la fenice Quindi insomma Bisogna un attimo Cominciare a regolare qua eh Ah potevo far meglio ragazzi Potevo far sinceramente meglio Ho sbagliato tutto Caldo soffocante Avrei detto caldo soffocone Ah 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 Ok Ti penso io Soffocone? Qualcuno Porco Giuda Ha sciolto il ghiaccio Merda Polvere di diamante L'attacco tipico di Shiva Va D'accordo Non ci vorrà molto Non ci vorrà molto no Perché se mi continua ad attaccare così Mi spaniccia Con X Eeeh Come? No eh no eh Sì ragazzi Questo è chiaramente Il quartiano Un po' tardente Zio vera È stato bello up Effettivamente Però ragazzi dai Mettiamo in atto la nostra routine Eh zio porco Però Eeeh Se te fate fa qualcosa Dorgal Non mica Diversivo Esagererò Sì Rischierò un po' Non fa niente Non rischio calcolato No non è vero ragazzi Ho rischiato un sacco per Eh guardalo Sto muta forma Eruzione Mi metto qua tranquillo Franzollo Dai 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 ragazzi Ce l'abbiamo in pugno Ce l'abbiamo in pugno Non sembra ma ce l'abbiamo in pugno Abbiamo le pede Sì ce l'abbiamo in pugno Tranquilli Ok Trascendenza E poi Bada Boom Sì ma non gli devo tantissimo ragazzi Cioè è un combattimento infinito 37.000 Perché io ho fatto il mio Perché ho tirato addosso tutto quello che fotevo Ultimo minuto Come ultimo minuto Che cribbio è Cosa cribbio è Ma che cazzo Oh Fermi Ma voi siete impazziti Raga Perché ha pensato che fosse una grande idea Fa sta roba Dai 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 Adesso Adesso È il nostro momentum È il nostro momentum Dai viamma liquida del cazzo Eh no ragazzi Già meglio un cazzo Già meglio un cazzo Proviamo un po' di vita va Oh vita Oh vita mia Vieni qua va E vieni qua va A cattatil Va A cattatil 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 Ragazzi il fatto è questo Che bisogna Un po' Dipendersi Non bisogna solo attaccare Hai capito Dorgal Bisogna difendersi Ecco vedi Capito Dorgal Ora se si ferma un attimo Ragazzi Possiamo già Conta vittoria Guardate A casa C'è la fanfara Della vittoria Però solo quando combatti Contro i nemici più grandi Mi sembra E superiamo il livello Quindi finalmente Riprendiamo pure la vita Quindi Fiamma liquida Speriamo che Possiamo creare qualcosina Jill Metterò fine A tutto questo Clive Tieni Usa questo Bello Solo che Poteva darci Anche direttamente I poteri No Tanto poi Li tornano Vediamo solo se Distruggendo tutto questo Comparirà un altro Di quegli esseri Vedete Il verso Sembra quasi una cosa viva Sì è viva Lo sappiamo Però Animata Stai guardando Sit Un altro passo Verso la libertà Bellissimo Veramente bellissimo Ragazzi Il cristallo Il cristallo Che avete fatto al cristallo Sì l'abbiamo distrutto Cosa? Cosa? Mostro Mostro Hai una minima idea Di quello che avete appena fatto Certamente padre Io ho Ciso Il mostro Divenendo Una fuorilegge Che la benedizione Dei cristalli Sia con te Clap clap Bellissimo Che momento È così Che sciva Ha richiesto il suo prezzo Sì esatto Un altro fardello per te Ma L'ho portato volentieri Era uno di quei peccati Che dovevo espiare Ora potrò restare al tuo fianco Camminando a testa alta Aspettate Manca qualcosa O sbaglio Ecco Clive guarda Oh Uguale a quello di Porta Fenice Però guardate sotto Merda Dobbiamo andare Concordo Ho visto qualcosina in più Eccoci No ragazzi Potarsi Potarsi Che questo Non è Joshua Quello che aveva visto Quella notte Quando diceva Sei tu Magari è ultima Guardate come scappano I sangue ferreo Che scene Alla fine pure lei si è salvata Meno male Ho mantenuto la mia promessa Adesso mantieni la tua Tanta tanta roba Tanta tanta roba È sembrato che avesse manipolato Il cristallo E si è rappresentato Diciamo Quello che possiamo chiamare Guardiano No Forza Di qua Voi sanguinate Ho con me un tonico Che... Grazie per la gentilezza Davvero Ma ti assicuro Che sopravvivrò Ti prego Conserva i medicinali Per chi ne ha realmente bisogno Oh Beh Se siete Sicuro Per un istante Ho percepito La presenza Di mio fratello Sol serio Temo che sia ancora Nei pensieri di ultima Ma Perché ora Dopo ben cinque anni Di silenzio Non potrò Ottenerlo Sigillato ancora a lungo Vostra grazia No Non sporcare Le tue mani Osservali Come un fiume Che scorre Verso il mare O come falene Verso la fiamma Il dominio cristallino È la loro luce Nel buio In molti Perdono la casa Per la piaga E si mettono In cerca Di un rifugio Mentre per altri La colpa È dei dazi Dalmechiani E vanno in cerca Di una nuova vita Che cosa state cercando Nel dominio Vostra grazia Oh Dion lesage Intendete Il principe reale Di Sanbrek Beh Lui ha molti titoli Dion l'audace Il principe dei dragoni La nemesi di Odino Oppure Bahamut L'ho incontrato Quando eravamo piccoli Mostrava già Un animo cavalleresco E da allora Sempre servito Instancabilmente L'impero E Voi siete Davvero sicuro Che ascolterà Ciò che avete da dirgli Il nostro mondo Sta vacillando Sull'orlo Dell'abisso Sospinto Da una mano nascosta L'influenza di Ultima Si estende In ogni nazione Sanbrek inclusa Se Sua altezza È l'uomo Che credo che sia E che prego che sia La verità Non gli sarà Certamente sfuggita Mentre i cristalli Crollano La fiamma Eterna Trema E il cielo Azzurro Si scurisce È un bene Essere stati Benedetti Dai cristalli Ma anche Viziati Direi Come Dei canarini In una gabbia dorata Cresciuti Ingrassando In cattività Ma ora Le sbarre Si stringono E noi Dobbiamo volare So che è doloroso Lasciare la nostra casa Ma dobbiamo essere liberi A cosa gli uomini Non possono rinunciare A una benedizione Che porta Dannazione O a una libertà Che causa Privazione Io non ho ancora trovato Questa risposta E tu Clive Vostra grazia Cerchiamo un posto Per riposare Torneremo Sulla strada Per Dalmekia Quando avrete Ripreso le forze Capisco L'urgenza Ma se la vostra salute Dovesse mai cedere Lo so Grazie Yod Sulla strada Il tentativo di penetrare Le difese dell'impero E di conquistare Le isole dell'arca È fallito di nuovo Perché la tua flotta Si è rivelata impotente Come un eunuco Alla prima notte Preferiresti forse Che tornassimo Alla capitale Basta voi due Concordiamo Che l'impero Debba interrompere L'occupazione Illegittima Del dominio Tuttavia Le nostre perdite Aumentano Ogni giorno Un mare Potrebbero protrarre L'assedio Sapendo di avere scorte Pressoché infinite E i nostri saggi sovrani Che cosa fanno? Si lasciano provocare Senza preoccuparsi Di tutto il caos Che potrebbero generare I soldati repubblicani Il dominio Ne causereste La distruzione A meno che Non sia ciò Che desiderate Se il nostro Colto consigliere Ha una soluzione Da proporre Saremo lieti Di considerarla No Vabbè No Quella È l'imperatrice No Ma questa salta Da una roba An'altra Dai Che significa Tutto questo Lord Cucca Che cosa Significa Vuol dire Che non sono Più propenso Ad andare avanti A consigliarvi Cioè Cambiato schieramento Ah Le loro facce Basite Quando avete Varcato Quelle porte La perfetta Rappresentazione Dello stupore Davvero Non credevano Ai loro stessi occhi Anche se lo ammetto Non ero affatto Sicuro Che avreste Accettato O meno Il mio invito Che notizie Che scioccante Seed non è un figlio Di puttana Ma è figlio Di un'imperatrice Il vostro caro Clive Assurdo Chi diffonde Queste falsità Non ho mai Non ho mai trascorso Un attimo Tra i criminali Salvo Per la furca Sono venuta qui Con mio figlio Non per ricevere Le vostre accuse Infondate Ma per porre fine Alle insensate ostilità Presenti Tra le nostre nazioni D'accordo Allora dovete Soltanto accettare I termini stabiliti Sied ha ucciso Una persona A me molto cara Una donna Che si chiamava Benedicta Ho giurato Di fargliela pagare Questo non vi sarà Sgradito Voglio immaginare Cancellerebbe Finalmente Una macchia Dal vostro Nobile nome In cambio Di questo Lascerò Sanbrec Nelle vostre Capaci mani Vostra maestà Imperiale Che sottone Però eh C'è tanto Un duro Un grosso E poi Tutto per amore Di una puttana Qualunque Dominante o meno Non è possibile Nascondere Il retaggio Le bestie Alla fine Restano sempre Delle bestie Il destino Il destino è in serbo Grandi cose Per te Mio caro Olivier Ah scusa Molto presto Non ammaschio Verrà incoronato Principe Di Sanbrec E una volta Che tuo padre Raggiungerà La somma Grigor Tu Sarai Imperatore Di tutti I tuoi Sudditi Il vecchio Ordine Sprofonderà Rovinosamente E tu Potrai Ricostruire Il mondo A tua Gloriosa Immagine Presto Oh Oh!